Il bullismo a livello sociale è presente, ogni ambito sociale ha la sua peculiarità, lo sport in questo momento anche sotto forme diverse però rappresenta un ambiente, un luogo dove comunque è necessario portare attenzione e perché no farlo anche partendo da quello che è uno sport più conosciuto che è il calcio per iniziare a dare dei suggerimenti specifici per gli adulti, i genitori ma anche i ragazzi. Fair Play contro bullismo, questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Castelsecco in collaborazione con Alga Atletica e Associazione Italiana Arbitri ad ospitare la serata sul valore dello sport, del rispetto dell'avversario e sulla lotta al bullismo l'auditorium Giancarlo Ferici Arbitro Club presso lo stadio comunale. Purtroppo è un argomento talvolta sottovalutato e sottostimato invece deve essere affrontato con la giusta cautela, con le parole giuste soprattutto da chi ne ha le competenze. Il bullismo è qualcosa che può sembrare qualcosa di inutile che riguarda solo determinate persone ma in realtà è nella società e dappertutto e lo sport da questo punto di vista ha un compito importante che è quello di evitare che determinati atteggiamenti diventino la normalità e soprattutto tenere lontani i ragazzi da determinati ambienti e tenerli in un clima sereno e soprattutto ha bisogno di società sportive che si dedicano anche a questo e che improntino il loro lavoro sull'educazione dei ragazzi, sui comportamenti e sul rispetto degli altri. Il fenomeno purtroppo del bullismo e del cyberbullismo portano delle conseguenze nello sviluppo di un ragazzo quindi siamo proprio qui per cercare di prevenire questi eventi. Le conseguenze possono essere di vario genere, siamo sempre attenti a segnalare il fatto che quando un ragazzo ha un ritiro sociale questo è già un segno più che sufficiente per farsi delle domande e per chiedere se sta superando un momento difficile e perché no indagare sempre più a fondo attraverso anche un dialogo costruttivo che possa portare alla luce quello che è veramente il malessere del ragazzo.